Joe Morelli vendeva sogni e all'inizio degli anni 50 la gente sapeva vivere solo di sogni. Joe Morelli cercava volti nuove per il cinema e la Sicilia degli anni 50 era un oceano di facce in attesa di un futuro. Era una nuvola di bocche in cerca di ricchezza. Una montagna di cuori assetati d'amore, una folla di morti che gridano giustizia, un fiume di mani che chiedono lavoro, un mondo di occhi che cercano sorrisi. Joe Morelli prometteva tutto questo. Futuro, ricchezza, amore, giustizia, lavoro, sorrisi. Joe Morelli era l'uomo delle stelle. Il nuovo film di Giuseppe Tornatore Il nuovo film di Giuseppe Tornatore Il nuovo film di Giuseppe Tornatore La Sicilia, appassionata e grottesca del dopoguerra, vista attraverso la cenepresa di uno straniero che insegue fortuna e denaro. E troverà solo l'amore. L'avventura di un uomo affascinante e perverso, buffo e crudele, generoso e bugiardo, che cerca nuove stelle del cinema, in una terra povera e inafferrabile. Uno straordinario, Sergio Castelletto, la giovane esordiente, Tiziana Nodato e cento attori che mi sorprenderanno. L'uovo delle stelle. L'uovo delle stelle.